Bolletta digitale sull'home banking, quali i vantaggi per PA e imprese? Grazie al servizio Sibill, PA ed imprese possono contare su un servizio evoluto di incasso che permette l'adulamento completo di errori di digitazione da parte del debitore. Questo inoltre fornisce una conferma in tempo reale dell'avvenuto pagamento riducendo notevolmente i tempi di riconciliazione e di contabilizzazione di quanto è stato pagato. Quali i vantaggi per gli istituti di credito e i cittadini? Gli istituti di credito possono finalmente contare su un servizio cooperativo che mette in comunicazione oltre 560 istituti finanziari partecipanti al consorzio CV. Grazie alla contrattualizzazione di un'unica banca con il fatturatore è possibile mettere in comunicazione tutti i clienti di questo fatturatore con i sistemi informatici del fatturatore stesso. Il contribuente al contempo può contare su una rete di accettazione degli ordini di pagamento molto estesa grazie a 25 milioni di postazioni di internet banking filiali ATM, mobile e tablet.